Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che come di consueto apriamo vedendo il bollettino odierno. Per quanto concerne l'emergenza sanitaria nella nostra regione sono 7 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.108 tamponi molecolari, è risultato così positivo lo 0,63% dei campioni. Si registra un lieve aumento dei ricoveri che passano dai 22 di ieri ai 24 di oggi. Non ci sono decessi recenti, il bilancio delle vittime è fermo dunque a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 16 e 70 anni. Gli attualmente positivi sono 875. 23 pazienti più 2 sono ricoverati in ospedale in area medica e 1, numero invariato, senza nuovi accessi in terapia intensiva. Mentre gli altri 851 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 71.569. Del totale dei casi positivi 19.068 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, numero invariato, 19.488 in provincia di Chieti più 1, 18.187 in provincia di Pescara più 1 e l'aumento più consistente in provincia di Teramo più 5, il cui totale è di 17.507. Un nuovo positivo fuori regione e 120 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso. Per sostenere i sei quesiti referendari sulla giustizia presentati dal centrodestra, questa mattina visita in Abruzzo del leader della Lega Matteo Salvini che in mattinata è stato a Pescara. Una calda mattinata di inizio luglio ha accolto questa mattina in Abruzzo il leader della Lega Matteo Salvini arrivato nella nostra regione per promuovere il referendum sulla giustizia. Prima tappa Pescara dove in piazza Primo Maggio è stato accolto da diversi militanti, oltre che dallo Stato Maggiore della Lega Abruzzo. Ce la facciamo, c'è stata una risposta popolare incredibile in un solo weekend di luglio con 40 gradi, più di 100.000 firme in tutta Italia. Da oggi è possibile firmare con calma e al fresco in tutti i comuni italiani e quindi l'obiettivo del milione di firme secondo me sarà ampiamente superato anche perché è un referendum non di partito, di giustizia, processi rapidi, certezza della pena, chi sbaglia paga e quindi abbiamo visto giusto. Ringrazio la Lega e ringrazio il partito radicale e ringrazio tutti gli italiani che arriveranno da domani in avanti, c'è tempo tutto luglio e tutto agosto. Non è mancato ovviamente un accenno alla nostra regione, in particolare alle prossime amministrative e al lavoro della Giunta Marsilio. PD e 5 Stelle vanno divisi sostanzialmente dappertutto, l'obiettivo è che la Lega guidi un centrodestra compatto nel cambiamento, cambiamento a Roma, cambiamento a Milano, cambiamento a Napoli, cambiamento a Torino, quindi queste firme sulla giustizia mi dicono che c'è tanta voglia di cambiamento, meno tasse, meno burocrazia, certezza della pena e i sindaci giusti al posto giusto perché i fondi europei verranno spesi soprattutto dai sindaci, quindi avere sindaci onesti e competenti sarà fondamentale. Sono contento, sono contento soprattutto del ruolo della Lega, dei consiglieri e degli assessori della Lega, io sono un perfezionista e chiedo di più, chiedo di più soprattutto sui temi del lavoro, 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 l'emergenza dei prossimi mesi sarà tutelare lavoratrici e lavoratori, gli imprenditori mi chiedono di rivedere il reddito di cittadinanza perché il reddito di cittadinanza invece di creare lavoro sta creando problemi e lavoro nero. Salvini ha poi parlato del problema della soppressione di quattro tribunali abruzzesi, la Lega si batterà, ha detto, affinché tutto questo venga sconciurato. La riforma della giustizia prevede anche che dobbiamo investire in personale, in cancellieri, in giudici, in giovani magistrati e in strutture perché chi in passato decise di tagliare scuole, ospedali e tribunali non fece un buon servizio. Parliamo adesso di primi cittadini. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia è ottavo tra i primi cittadini del paese con un gradimento in crescita rispetto a quello delle elezioni del 2017 del 5,5% e è arrivato adesso al 59% del gradimento. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, è al contrario in bassa classifica, al dodicesimo posto con un calo del gradimento del 4,4% rispetto al 2019, attestandosi al 45%. Quanto emerge nella rilevazione attuale realizzata da noto sondaggi per il Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano di Confindustria, che ha monitorato l'indice di gradimento dei 105 sindaci capoluoghi di provincia. Male il sindaco di Pescara, Carlo Masci di Forza Italia, figura all'ottantunesimo posto, in bassa classifica passato dal 51,3% al 49%, perdendo dunque il 2,3%. Gli altri comuni capoluogo, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, del PD, al 42esimo posto, con un calo del consenso dello 0,3% dal 55,8% del settembre 2020 al 55,5% odierno. Il sindaco di centrosinistra, Gian Guido D'Alberto, è al 57esimo posto, a metà classifica, e perde lo 0,3% dei consensi, passando dal 53,3% al 53%. L'ottavo posto, spiega Biondi all'Ansa, premia l'operato non solo del primo cittadino, ma dell'intera maggioranza. Il dialogo con la comunità e con l'intero territorio sono determinanti per instaurare prospettiche politiche di sviluppo, volte a garantire un futuro solido a famiglie e imprese che vedono nei sindaci un punto di riferimento per le loro istanze, un punto di raccordo imprescindibile con le altre istituzioni dello Stato. I continui tagli alla sanità, la sospensione della guardia medica notturna, le disattese promesse sulla riqualificazione dell'ospedale San Massimo di Penne. Per questo i cittadini dell'area Vestina sono tornati in piazza per protestare contro l'attuale governo regionale. Un mattone poggiato davanti l'ingresso del municipio come simbolo di protesta per i lavori annunciati ed ancora cominciati presso l'ospedale San Massimo di Penne. Sono tornati a protestare in maniera del tutto pacifica i rappresentanti del comitato cittadino di lotta per la sanità Vestina guidata da Gabriele Frisa, esponente di Rifondazione Comunista. Sono tagli che si consumano ormai da 20 anni, ma questa amministrazione di centrodestra sta facendo tutto il contrario di quello che promette. Ricordo che a maggio dell'anno scorso sono venuti qui mezza giunta regionale a prometterci che riaprivano i reparti, che a novembre partiva il primo mattone. Poi sono venuti, pensate un po' voi, a novembre dell'anno scorso a dirci le stesse cose. Il futuro candidato sindaco alle prossime elezioni ha portato in piazza un altro tema caldo che nelle ultime ore sta destabilizzando il nostro comio vestino, ovvero il provvedimento della ASL di Pescara di non mettere a disposizione i medici per il reparto di medicina, ma solo reperibilità a causa della necessità di far smaltire le ferie al personale. Il reparto medicina per esempio manda il medico notturno e c'è solo il medico tra virgoletti di reperibile. Quindi chiediamo un'inversione di rotta totale. Mi stupisce che anche i nostri amministratori non dicono niente o quasi niente, sono scomparsi totalmente da questa battaglia dell'ospedale di Penne. Centrodestra e centrosinistra, PD e Lega sono accomunati dal fatto di dire tante belle parole ma poi accodarsi al carro dei cosiddetti neoliberisti, che è una parola che sembra complicata ma significa semplicemente far arricchire i ricchi e rendere più poveri i poveri e quindi continuare a tagliare la sanità pubblica, che è l'unica che ci salva la vita come il Covid ha dimostrato, per favorire i privati, impoverire le zone interne e continuare a distruggere i diritti sociali acquisiti negli anni da tanti cittadini che diventano cittadini serie B perché vivono in posti dove poi non ci si può curare. Dopo la crisi di governo che si è innescata all'interno del comune di Pineto e i rappresentanti di Tagliaviva, a cui il sindaco Verrocchio ha ritirato le deleghe in consiglio comunale, oggi in conferenza stampa hanno comunque aperto uno spiraglio affinché il rapporto con il primo cittadino possa essere ricuscito. E' crisi profonda nella maggioranza del consiglio comunale di Pineto, il tutto è cominciato a seguito della decisione del gruppo di Tagliaviva di desertare il consiglio comunale del 28 giugno scorso, per questo il sindaco Robert Verrocchio ha deciso poi di togliere le deleghe all'assessore Claudio Mongia e al consigliere Marco Giampietro, ma questa è solo la solita goccia che fa traboccare il vaso, visto che i rapporti tra il primo cittadino e gli esponenti del partito renziano da alcuni mesi si stavano incrinando. A seguito di quanto accaduto, Tagliaviva ha espresso tutto il suo disappunto sulla situazione che si sta venendo a creare e tramite il coordinatore regionale Camillo D'Alessandro lancia un ultimo appello al sindaco per cercare di portare a termine nel migliore dei modi il programma elettorale. Non è nelle disponibilità del sindaco stabilire a che partito debbano aderire i consiglieri comunali e dovere invece il sindaco convocare le forze politiche che nascono in consiglio comunale ed Italiaviva rappresenta circa il 40% del consiglio comunale della maggioranza, ragione per la quale oggi noi siamo fuori ma abbiamo lanciato, proprio perché siamo responsabili, un ultimo appello, un patto di fine legislatura, un patto programmatico, amministrativo, ci sediamo e stabiliamo ciò che possiamo continuare a fare insieme, ciò che ci divide e smussare, sicuramente noi non utilizziamo l'arma del ricatto. Quello che vogliamo è che ci sia un confronto, un riconoscimento politico di questa forza e se poi invece il sindaco vuole ed è legittimo cercare operazioni trasfughi in consiglio comunale, diversi da quelli che lo hanno eletto in sindaco di questa città, lo può legittimamente fare, ma voglio fare un appello al Partito Democratico, sono qui per ricucire, nella dignità e nel rispetto reciproco. È singolare che ovunque in Abruzzo dove si voterà e si voterà a ottobre in diversi comuni, sopra 15 mili abitanti, praticamente salvo qualche rara eccezione ovunque, noi presentiamo liste a sostegno dei candidati del PD e del centro-sinistra, li ci chiamano e ci vogliono, quando servono i voti, quando invece governiamo insieme succede quello che è successo a Pineto e siccome Pineto non è un comune qualunque, è un comune tra i più importanti di Abruzzo, è un fatto politico che riguarda anche il PD regionale, quindi sediamoci tutti a un tavolo, pronti a risolvere i problemi, ma se questa disponibilità non ci dovesse essere, sia chiaro per i cittadini di Pineto, nasce una forza politica, presenta un programma, chiede un incontro da mesi, il sindaco neanche li riceve, credo che sia un problema del sindaco, non di Tagliaviva. Tornà dopo lo stop di un anno a causa della pandemia a Pescara la festa di Sant'Andrea. Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia tornano a Pescara i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant'Andrea Apostolo, protettore della marineria pescarese, il programma delle celebrazioni religiose e degli eventi all'Atere in calendario per i prossimi 24, 25 e 26 luglio è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo di Città. La caratteristica più bella è la processione in mare, dove noi gettiamo le corone in onore dei caduti e quindi un momento molto suggestivo e particolare per quanto riguarda la festa di Sant'Andrea. Poi chiaramente ci sarà il classico mercatino, la fiera del mercato del pesce, non solo, ci saranno i concertini, lunedì ci sarà il concerto maggiore con la chiusura dei fuochi pirotecnici in mare come abbiamo sempre fatto e quindi come si dice che Dio ce l'ha mai di buona, cerchiamo di fare una bella festa. Certamente il significato religioso è che sottolinea un po' la fede di quello che è stata la tradizione ma di quello che vorrebbe essere anche il proseguo, il futuro anche della nostra gente, quindi sottolinea quel senso di un'esperienza legata a una testimonianza cristiana, di un patrono che vorrebbe essere come un modello, un punto di riferimento per la nostra fede cristiana in fondo, poi il resto proprio perché è legata a un'esperienza cristiana non è solo un fatto religioso, è un fatto anche di comunità che si incontra, si ritrova, sta insieme, cerca di rinnovare anche la propria solidarietà. Si chiama Trip in Montesilvano, il progetto di promozione turistica destinato a valorizzare il territorio cittadino grazie ai travel blogger e l'uso dei social. Trip in Montesilvano sarà una nuova esperienza estiva, culturale per il comune di Montesilvano, ci saranno dei blogger che racconteranno le bellezze della città. Stiamo cercando di rinfrescare un po' anche le modalità di promozione turistica, quindi abbiamo scelto di avvicinarci soprattutto alle fasce di età più giovani ma anche a coppie, con figli, comunque insomma un turismo un po' più, chiamiamolo 2.0 attraverso questa iniziativa e ospiteremo, abbiamo interpellato e ospiteremo numerosi food blogger, travel blogger, siamo soliti chiamarli influencer il più delle volte, insomma comunque persone che hanno un seguito già targettizzato di numerosi follower e utilizzeremo quindi questo metodo per promuovere non solo chiaramente le bellezze della nostra città ma anche le tante attività che si possono svolgere sul territorio, anche di conseguenza le attività commerciali che hanno sposato favorevolmente questa iniziativa, per cui sarà un metodo un po' più alternativo per raggiungere il maggior numero di utenti possibili e far vedere non solo sul territorio nazionale ma anche al di fuori da questo le bellezze del nostro territorio. In che modo cercherete di attirare più turisti possibili tramite i social a Montesilvano? Sì, Trip in Montesilvano è un progetto di promozione turistica che vi agirà sul digitale e sui social attraverso un hashtag dedicato, dei travel blogger si alterneranno a Montesilvano durante l'estate e metteremo in evidenza l'esperienza turistica da fare a Montesilvano e la veicoleremo sul tutto il territorio nazionale attraverso i social. Sono dei travel blogger freschi, diciamo molto smart, con molti follower avremo virtualmente a Montesilvano circa 400-500 mila follower, potrete seguire i propri profili e le proprie avventure, si chiamano i Trip and Roll, Mi Prendo e Mi Porto Via, Che Viaggi ti fai, sono tutti dei blogger, dei content creator molto smart che vanno ad abbracciare un ampio target di follower, di clientela, di utenza. A Teramo invece si sono chiuse le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie, come da tradizione il sindaco ha consegnato alla copatrona la chiave della città. In questa solennità quindi vogliamo portare alla tua attenzione il sacrificio sostenuto per la tua, dalla nostra comunità, per l'improvviso stravolgimento di abitudini, modi di vita del vivere quotidiano. La tua benedizione, costantemente riservata alla nostra città, possa quindi continuare a sostenere gli sforzi di chi, in canto pubblico o nel cuore della nostra individualità, si potere sfruttare le loro difficoltà e aiuta noi istituzioni a non lasciare nessuno per ultimo dal centro alle periferie, dalla città alle frazioni. Consiglio Gianquidolo Alberto Sindaco, torna a soffrire a te, Madonna delle Grazie, la chiave della porta di Teramo, avendo il cuore e la speranza di tutti i nostri concittadini. Evviva Santa Maria delle Grazie e viva Teramo! È stata una giornata straordinaria, una festa che deve consentirci di guardare al futuro con fiducia e speranza. Abbiamo consegnato i nostri cuori alla nostra Santa Maria delle Grazie perché ci sia un messaggio importante di solidarietà che riesca veramente ad accompagnarci nel modo migliore, con fiducia e speranza, verso l'uscita dall'emergenza pandemica. La città ha onorato degnamente la propria compatrone con vari momenti musicali in vari punti della città e ieri c'è stata anche la notte dell'organetto, c'è stata Musca Medievale, prima un saggio di pianoforte. Quindi sono tante tante le attività e speriamo che una grande delle grazie ci dia la forza di portare avanti queste iniziative perché questa è un'iniziativa che, ripeto, viene finanziata solo con l'acquisto dei biglietti, solo con la lotteria. E adesso apriamo la pagina di sport del calcio. A pochi giorni dalla ripresa dei lavori non è ancora decollato il mercato del Pescara, sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. Però vicino l'arrivo del difensore argentino Julian Ijanes della Fiorentina. Julian Ijanes dovrebbe essere il primo innesto ufficiale del Pescara per la stagione 2021-2022. Il difensore argentino, classe 97, nativo di Cordoba e di proprietà della Fiorentina, i due club stanno definendo l'accordo con i Viola che vogliono far partire Ijanes a titolo definitivo, mentre il Pescara lavora per ottenere il prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di pronto ritorno in Serie B del Delfino. Ijanes nelle ultime due stagioni era stato già girato in prestito dalla Fiorentina all'Avellino nel 2019-2020 con 28 presenze. Nell'ultimo campionato prima parte al Chievo, dove non ha mai giocato in Serie B, quindi il ritorno ad Avellino con 18 gettoni in campionato e 5 nei play-off. Difensore centrale duttile poiché interpreta bene sia la difesa 4 sia soprattutto quella 3, che sarà marchio di fabbrica di Gaetano Auteri. Già lo scorso anno ad Avellino spesso ha giocato nei tre centrali con Piero Braglia. Sempre per la difesa il Pescara si sta avvicinando anche a Stefano Negro, difensore di proprietà del Monza e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Perugia con cui ha vinto il Girone B. Quello che è certo è che gli operatori di mercato del Pescara, dal presidente Daniele Sebastiani al Neo DS Luca Matteassi e al capo scouting Antonio Bocchetti, hanno la necessità di accelerare le operazioni per garantire a Gaetano Auteri un gruppo di nuovi giocatori con cui iniziare a lavorare nel pre-ritiro del Poggio e nelle giornate di Palena, pur essendoci l'incombenza di eseguire alcune operazioni in uscita. In stand-by quella di Edoardo Masciangelo al Ferenc-Varos, al momento ritenuta una operazione non congrua da Sebastiani. Uscite che dovrebbero riguardare altri profili come Scogna Emilio, Valdifiori e Sorensen, anche se al momento non si può escludere che possano tutti partire per il ritiro e nel corso delle settimane potranno perfezionarsi le varie cessioni. Per l'attacco sfuma Alessandro Marotta, uno dei primi nomi finiti sul taccuino dei dirigenti Biancazzurri, l'attaccante ha firmato un biennale con il Modena che, se il Pescara dovesse fare il girone B, sarà uno dei principali antagonisti del Delfino che così per il fronte offensivo continua ad avere come priorità Eugenio Dursi. Esterno di proprietà del Napoli e molto valorizzato, numeri alla mano, da Auteri nelle ultime stagioni a Catanzaro e Bari ed Ettore Giozzi, centravanti di proprietà del Monza e nell'ultimo anno, visto in Serie B con il Cosenza. Per il centrocampo non è tramontata del tutto l'idea di riavere in biancazzurro Daniele Dessena, tra i pochi da salvare nell'ultima parte della scorsa stagione. Lo stesso centrocampista è uscito allo scoperto circa la volontà del Pescara di riaverlo. A questo punto sarà decisima anche quella del giocatore, se prendere parte o no al progetto tecnico di rilancio del Delfino. E passano i giorni, è tolta l'iscrizione al campionato, invece a Teramo è ancora tutto fermo. Situazione difficile, chi ha il contratto scaduto sta andando altrove e anche chi rimane vorrebbe capire i contorni ancora molto sfocati della stagione alle porte. Nessuna novità all'orizzonte ed è probabile che non ce ne saranno neppure nelle prossime ore, perché a Teramo iscrizione a parte è tutto, ma davvero tutto fermo. Fermi i rinnovi che non ci sono stati con contestuale partenza di coloro che scadevano il 30 giugno. Fermo il discorso allenatore, con la panchina che dopo l'addio di Massimo Pace volato a Pordenone non ha ancora un padrone, mentre alla spicciolata alcuni elementi dell'ultima stagione stanno trovando squadra. Perché Tentardini e Bombaggi stanno per essere due nuovi rinforzi del Catanzaro e si ritroveranno in Calabria dopo i due anni in bianco-rosso. Così come le aquile giallorosse sarebbero interessate anche a Pietro Cianci, che seppur non in scadenza non sembra essere intenzionato a rimanere a Teramo. Discorso valido anche per Ilaria e Lewandowski in cerca di sistemazione. Il problema è che le trattative in entrata, col direttore sportivo ancora senza contratto e col punto interrogativo di sé e come la presidenza Iachini continuerà, sono ferme tutte al palo. Impossibile mettersi al tavolo senza avere la sicurezza di quelli che saranno gli scenari futuri. L'attuale presidenza sarà ancora in sella quando inizierà il campionato? Difficile dirlo con certezza. La volontà, quella sì, è quella di lasciare. Ma a chi? E soprattutto a quale prezzo? Tanti punti interrogativi che coinvolgono inevitabilmente anche chi il contratto ce l'ha, ma senza sicurezze su come e quando. La stagione 2021-2022 potrà cominciare ufficialmente. Non c'è una data per il ritiro, non c'è un programma per le amichevoli, non c'è niente a Teramo in questo momento. Dal rinvio del PEF in avanti tutto è stato lasciato, così com'era. E allora anche attrarre i giocatori a sposare un progetto del quale non si conoscono nemmeno sommamente i contorni diviene impresa molto ardua. Anche i nomi circolati in questi giorni sono solo idee e suggestioni, ma nulla di più. Sandro Federico ha dato la disponibilità a continuare, ma senza contratto, proprio non può. Ecco perché più passano i giorni e più la situazione diventa ingarbugliata. L'unica cosa certa è che il Teramo farà parte delle 60 squadre di Lega Pro. Tolto questo, non c'è nient'altro a cui aggrapparsi in questo momento. Situazione complicata e per certi versi paradossale e scontato che non si potrà continuare a tentennare ancora per molto tempo. Pena quella di accumulare un ritardo tale da non poter essere recuperato in fretta. Torna il grande beach volley a Montesilvano dal 9 all'11 luglio. Infatti la città adriatico ospiterà una tappa del campionato italiano. Tappa molto importante di beach volley, rafforza l'importanza della palla a volo sulla regione Abruzzo. Direi assolutamente sì, questo era un impegno che ci eravamo presi e che volevamo fare l'anno scorso, 2020, poi la pandemia ci ha bloccato e quindi adesso ci proponiamo con questo importante evento che vuole essere un segnale di ripartenza, rimettere la palla a volo al centro, rimettere l'Abruzzo al centro. Come abbiamo detto con l'assessore è fondamentale che in questo gioco di squadra ci si mettano insieme tutte le componenti politiche, federali, economiche, delle amministrazioni locali per riuscire a fare le cose per bene. Le giornate saranno? Saranno giornate importanti da un punto di vista tecnico di assoluta qualità. Noi apriremo il mercoledì e giovedì con la tappa del campionato Under 20, quindi la migliore gioventù della pallavolo maschile e femminile e poi invece venerdì, sabato e domenica i migliori biciari italiani ad eccezione di quelli che sono già partiti o stanno preparando le Olimpiadi, ma si devono giocare lo scudetto anche su questa tappa di Montesilvano che rappresenta una delle otto tappe nazionali, quindi una tappa assolutamente importante. Noi ringraziamo la federazione che ci ha dato la possibilità di aiutare, crediamo che sia importante in questo periodo come privati dare un aiuto a tutte queste manifestazioni che devono riportare sul nostro splendido territorio, la pallavolo sia a livello indoor che a livello ovviamente in questo caso Beach. È una manifestazione importante, giocata in un posto meraviglioso che si presta a questi tipi di eventi, quindi benvenga da parte nostra la volontà e la voglia di dare una mano. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro TG6 alle ore 23, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.